Era ricercato nelle Marche per reati di droga e contro il patrimonio, ma lo hanno trovato in Casentino. Si tratta di un 53enne marchigiano finito in manette a strada nella serata del 12 gennaio scorso. Ad arrestare il pluri pregiudicato, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bibiena, con il supporto dei colleghi di strada in Casentino e Poppi, sull'uomo pendeva un mandato di cattura per espiare una pena di circa due anni, quale cumulo dei reati commessi. La presenza del 43enne, già ricercato su tutto il territorio marchigiano dal 10 gennaio, era stata poi segnalata sul territorio casentinese. Immediata così l'attivazione dei carabinieri della compagnia di Bibiena, che avevano dato avvio ad un'attività mirata. Ieri mattina è arrivata poi la svolta. La polizia municipale ha infatti segnalato un'auto sospetta a strada in Casentino. I militari l'hanno inseguita e hanno identificato e bloccato il ricercato. Il 43enne adesso si trova nella casa circondariale Aretina di San Benedetto.